Musica Buona domenica, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione settimanale del TG7. Ripercorriamo insieme i fatti salienti della settimana che si è appena conclusa. Lunedì scorso è nata formalmente tua con l'atto di fusione tra GTM e FAS. Il protocollo è stato firmato nella sede della Presidenza della Giunta regionale a Pescara. Rivediamo. 142 milioni di euro il giro d'affari che rende la nuova società di trasporto unico abruzzese TUA, la seconda azienda dopo Sevel in Abruzzo, la settima nel panorama nazionale con i suoi oltre 30 milioni di chilometri preventivati, la nona per i valori di produzione tra servizio urbano, suburbano, extraurbano e ferro, 1.601 i dipendenti. TUA nasce formalmente con l'atto di fusione tra GTM e FAS, firmato nella sede della Presidenza della Giunta regionale a Pescara, mentre resta in carica la Presidenza ARPA, almeno fino al 30 giugno, per consentire l'approvazione del bilancio. Entro il 30 giugno sarà perfezionato anche l'ultimo passaggio che incorpora GTM e FAS in ARPA. Gli obiettivi di TUA sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, dal Presidente di ARPA Luciano D'Amico e dal Sottosegretario con delega ai trasporti Camilo D'Alessandro, pochi minuti prima dell'atto di fusione. La nuova governance ipotizzata vedrà una divisione gomma e una divisione ferro. Nella divisione gomma si sta pensando alla ripartizione dei compiti in aree omogenee, area esercizio, area tecnica, area amministrativa, area delle risorse umane e area di staff della Presidenza. Il Presidente Luciano D'Amico. La firma che cosa significa per i trasporti abruzzesi? Che da domani avremo un'unica azienda per gestire tutto il TPL regionale e delle preesistenti società, significa soprattutto che da domani metteremo appunto una struttura organizzativa in grado di offrire ai cittadini abruzzesi dei servizi sempre più efficienti e più qualificati a dei costi sempre più contenuti. E questa è la grande sfida che attende l'azienda unica e che ne fa in qualche modo, speriamo, un protagonista dello sviluppo. Ci si aspetta anche un biglietto unico ma anche dei contratti di secondo livello uguali per tutti? Ci si aspetta una razionalizzazione che possa consentire a tutti i cittadini abruzzesi di poter viaggiare con un biglietto unico su tutta la rete regionale. Ci si aspetta anche, e questo è un lavoro già iniziato da qualche mese che subirà un'ultima accelerazione nelle prossime settimane, una razionalizzazione della struttura organizzativa che prenda avvio dalla predisposizione, dalla stipula di un contratto aziendale di secondo livello che faccia salvi gli interessi dei dipendenti, coniugandoli con le esigenze di sviluppo della società. Attua sarà affidata all'integrazione Ferrogomma nell'obiettivo di offrire ai cittadini un sistema di mobilità efficace e confortevole, è stato detto, e al sistema industriale regionale un partner economico per la mobilità delle merci e per le connessioni alle reti logistiche. Il delegato ai trasporti di Alessandro è il presidente di San Gritana, Pasquale Di Nardo. Noi avevamo bisogno di mettere a sistema un trasporto pubblico locale che ha grandi potenzialità da un lato e che dall'altro fa troppe falle anche in termini finanziari e di bilancio. Di fronte a un mondo che cambia, di fronte alle gare, di fronte alle minori risorse non potevamo mantenere l'assetto attuale. Abbiamo deciso di cambiare e il futuro inizia quando cambi la storia. Noi oggi abbiamo cambiato la storia e il futuro inizia però mettendo a sistema tutte le potenzialità e eliminando i problemi. Visto che sono a fianco al presidente Di Nardo, l'abbiamo detto, ripetuto, ribadito, il patrimonio progettuale, esperienziale, gli obiettivi che San Gritana ha portato avanti proseguiranno dentro l'azienda, credo in modo rafforzato perché adesso il progetto ferro non farà parte di un'azienda che con tutto il rispetto della storia ma aveva dei limiti dimensionali e oggi entra dentro questo progetto un'azienda di 1.600 dipendenti, di 140 milioni di fatturato, di 35 milioni di capitale sociale, la sesta in Italia, la seconda per dimensioni in Abruzzo. Penso che abbiamo fatto bene, siamo secondi solo alla Sevel, penso che abbiamo fatto bene al ferro e a chi ci ha creduto fino ad oggi. Presidente Di Nardo, dunque oggi la firma per San Gritana che cosa cambierà? Nulla, anzi si aggiunge in termini positivi, prima diciamo il nome non solo resta ma è aggiunto a tua, quindi sostanzialmente un elemento positivo in più. Riusciremo finalmente nell'integrazione Ferrogomma che ci eravamo ripromessi, riproposti che in questi sei anni ci hanno accompagnato in tutte le nostre attività ad offrire un esercizio completamente diverso, quindi rivolto, come diceva prima il sottosegretario D'Alessandro, all'esigenza di quelli che sono gli utenti, 40 milioni di utenti che avranno la possibilità, una possibilità in più, una unica possibilità con un biglietto unico che è allo studio e quindi sostanzialmente servizi che potranno migliorare la mobilità all'interno di questa regione. Per San Gritana in aggiunta a quelle che sono le attività di trasporto pubblico locale abbiamo, ringrazio la regione, il sottosegretario D'Alessandro, il presidente D'Amico ma anche lo stesso presidente D'Alfonso che questa mattina lo ricordava, la cura del ferro sostanzialmente in qualche misura, se una battuta consentita anche all'interno di quelle che possono essere attività a mercato e quindi con il trasporto merci, con quelle che sono le attività aggiuntive al trasporto merci che si possono svolgere in Val di Sangro, vale a dire la manutenzione, per i 40 mila per esempio vagoni che movimentiamo annualmente sono tutti valori aggiunti di cui oggi San Gritana all'interno di TUA può sicuramente trovando all'interno della società unica un valore aggiunto maggiore, una garanzia ulteriore per i lavoratori del nostro territorio. Nuove sfide per il Polo Automotive della Val di Sangro con 23 progetti di trasferimento tecnologico e 16 di ricerca e sviluppo sperimentale. Il settore occupa in Abruzzo 30 mila addetti con fatturato di 7 miliardi di euro e il 50% di export regionale. 23 progetti di trasferimento tecnologico e 16 di ricerca e sviluppo sperimentale sono solo alcuni dei numeri del Polo Innovazione Automotive d'Abruzzo tra i più attivi in Italia che riunisce circa 70 partner tra aziende e organizzazioni dalle multinazionali alle piccole e medie imprese, università e centri di ricerca impegnate a vario titolo nella filiera dell'industria automobilistica localizzata in Abruzzo, principalmente nella Val di Sangro e oltre i confini regionali. Abbiamo una Automotive Mechatronic Valley, così ha definito la Val di Sangro il presidente del Polo Giuseppe Ranalli nel corso della conferenza stampa a Pescara nella sede della regione Abruzzo. Nati come consorzio nel 2008 per fare ricerca e sviluppo, ci siamo candidati nel 2010, ha detto Ranalli, a diventare Polo di Innovazione per l'Automotive. Da quel momento in poi siamo riusciti ad aggregare e a trarre anche grossi gruppi fuori regione. La cosa incredibile e sperimentata è che davvero, lavorando insieme, si fa il bene comune. È l'unica strada che permette di sviluppare prodotti complessi, di poterli industrializzare, di essere competitivi avendole ricadute industriali, perché attraverso la ricerca e l'innovazione significa, come diceva Schumpeter, il grande economista, ridurre veramente i costi abbattendo il costo dei materiali, scegliendo classi di materiali diversi, abbatterne i pesi, avere mezzi sempre più efficienti, con ottimizzazione energetica. Quindi è una competitività che non va a colpire il costo del lavoro, ma anzi si basa solo e esclusivamente sulla capacità di sviluppo di conoscenze e di competenze complesse e questo è possibile farlo solo lavorando insieme, sotto forma di cluster. Oggi il sistema delle imprese automotive in Abruzzo occupa circa 30.000 addetti, di cui 25.000 in provincia di Chieti. Il fatturato è di 7 miliardi di euro, pari al 20% del settore manifatturiero e rappresenta circa il 50% dell'export della regione Abruzzo. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per mostrare uno dei progetti regionali che ha permesso di dotare un veicolo commerciale leggero del nuovo sistema Shelter, realizzato grazie alla sinergia favorita all'interno del polo tra l'azienda Abalog e Università degli Studi dell'Aquila, con il supporto di altri partner. Il sistema Shelter si riferisce alla componibilità di contenitori su LCV, come ad esempio il Ducato. Antonio Di Cosimo di Abalog. È un'innovazione che è dettata dal bisogno della logistica, per cui parte dal concetto di poter distribuire nei centri storici contemporaneamente prodotti alimentari che abbiano diversi bisogni di temperature, quindi dal surgelato, carne che invece viaggia normalmente a zero gradi, alla temperatura ambiente che potrebbe essere la pasta o altre cose che non hanno bisogno di freddo. Il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, Giovanni Lolli, nel ribadire l'impegno della Regione Abruzzo, sostegno del sistema automotive, ha sottolineato come sia strategicamente importante l'orientamento verso la ricerca e l'innovazione, non solo per affrontare le sfide dei mercati globali, ma soprattutto per consolidare, potenziare e sviluppare il tessuto industriale abruzzese, che in questo caso rappresenta una vera e propria eccellenza. Quindi il polo automotive è una buona prassi da esportare? Assolutamente sì, ma vorrei dire di più, è un esempio, insomma dobbiamo essere un po' orgogliosi, è un esempio abbastanza raro e abbastanza indicativo sul panorama nazionale, non solo per l'Abruzzo. Un attestato per la conoscenza della lingua inglese e come volano per l'inserimento nel mondo del lavoro. A Lanciano l'ITS Sistema Meccanica consegna i diplomi agli studenti del Da Vinci. Bella e fruttuosa novità quella che ha coinvolto decine di studenti del territorio frentano, il riferimento al progetto eLearn English Student Car, promosso e finanziato dalla fondazione ITS, con l'obiettivo di dare agli studenti uno strumento, la conoscenza dell'inglese appunto, che possa proiettarli nel futuro mondo lavorativo con maggiori competenze e professionalità. La fondazione Sistema Meccanica di Lanciano ha messo infatti in campo una serie di attività volte a migliorare tutta la filiera formativa del territorio, coinvolgendo direttamente gli studenti delle scuole tecniche della provincia. In settimana gli studenti dell'ITS Da Vinci di Lanciano hanno ottenuto i diplomi con corsi di inglese moderni e innovativi. Il dirigente Gianni Orecchioni. Una esigenza che è diventata un progetto finanziato. Oggi stiamo a premiare a due anni di distanza i ragazzi che hanno partecipato a un corso per provare a insegnare l'inglese in una maniera completamente diversa utilizzando piattaforme digitali, quindi un inglese parlato, giocato, con aspetti anche di carattere ludico, con piccoli gruppi, con l'assistenza ad un docente madrelingue. L'abbiamo sperimentato per tutti i ragazzi che l'anno scorso facevano le terze classi. Quest'anno è arrivato a conclusione per i ragazzi che ultimano il quarto anno. Pensiamo di aver fatto una cosa molto interessante anche a livello di sperimentazione nazionale. Tra le novità del corso, la divisione dei ragazzi in gruppi linguistici omogenei, la presenza di un insegnante madrelingua, l'utilizzo di uno strumento interattivo e multimediale che utilizzando approcci didattici vicini ai giovani, i video, i cartoni, la musica, basati anche su un apprendimento ludico, hanno facilitato l'autoapprendimento della lingua inglese. Ecco Livia, congratulazioni. Grazie. Allora, vediamolo, ecco qui, attestato di frequenza. È stato fruttuoso, quante cose hai imparato. Adesso hai una padronanza, non dico completa, ma importante della lingua? Sì, sì, abbiamo migliorato l'inglese attraverso l'ora che facciamo con la professoressa madrelingua, ma anche con l'utilizzo della piattaforma online, in cui con giochi, con vocaboli, ma anche con visioni di pezzi di film, abbiamo potuto migliorare e rendere più facile l'apprensione dell'inglese. Motori, folla dei appassionati delle due e quattro ruote al raduno del club frentano ruote classiche a San Vito Chietino, iniziativa programmata all'interno delle feste patronali. Vecchie signore su due e quattro ruote, affascinanti, vanitose, curate, truccate per l'occasione, ma intatte nell'originale splendore. Il raduno a San Vito Chietino, in occasione delle feste patronali, ha consegnato agli appassionati e ai curiosi ben 70 tra auto e moto d'epoca, con la firma del club frentano ruote classiche di Lanciano e del Vespa Club di San Vito Chietino. Un viaggio ritroso nel tempo, attualissimo però nel suggestivo percorso lungo la costa dei Trabocchi, per le colline verdeggianti di Ulivi, fino alla cantina Collemoro di Guastameroli di Frisa, per un doveroso brindisi a tanto fascino. Auto d'epoca per tutti i gusti, la Ford T del 1919, quella più datata, la Buick del 37, la più elegante, poi Maggiulini anni 60, le Lancia a cavallo tra gli 80 e i 90. Bella la Citroën del 38, immortale il Triumph anni 60. Piccole, medie e grandi automobili che hanno fatto la storia sulle strade di Mezzomondo. L'autobus 642, modello Padana, il mezzo più grande al servizio della ditta di Fonso. Nel 1953 gli autobus si guidavano a destra e poi Cadillac, Alfa, tanto altro. Tra le moto, nella regione di Corradino d'Ascanio, ecco le Vespe dagli anni 50 in su. La moto più vecchia, una Douglas del 1907, Scintilla, l'Arley del 42. Tanta bellezza non può restare a lungo in garage e allora applausi scroscianti per una giornata, doverosamente all'aria aperta. Soddisfatti il presidente ruote classiche Gianni Olivieri e la presidentessa del Vespa Club Maria Testa. Il calcio scommesso e travolge anche il Teramo. 30 mila euro, secondo gli inquirenti, il prezzo della Combine, organizzata per truccare la partita di calcio, Savona-Teramo, disputata il 2 maggio scorso in Lega Pro che ha permesso agli abruzzesi la promozione in Serie B. Terremoto bianco-rosso proprio all'indomani del rinnovo biennale del tecnico Vivarini. Il Teramo al suo primo anno di Serie B dopo la storica promozione adesso rischia grosso e rischia di veder vanificare il grande traguardo. La polizia ha notificato questa mattina cinque avvisi di garanzia ed eseguito altrettante perquisizioni domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro sul calcio scommesse. Al centro delle nuove indagini la gara Savona-Teramo di Lega Pro che ha consentito agli abruzzesi di ottenere la promozione in Serie B. Tra i cinque nuovi indagati ci sono anche il collaboratore tecnico del Parma ed ex direttore sportivo della Ternana Giuliano Pesce, 50 anni, conosciuto in Abruzzo per aver diretto il Lanciano sotto la gestione Angelucci e il presidente del Teramo Luciano Campitelli. Hanno poi subito perquisizioni e ricevuto un avviso di garanzia il DS del Teramo Marcello Di Giuseppe, quello del Savona Marco Barchigiani e il calciatore del San Paolo Padova Davide Matteini. 30.000 euro sarebbe stato questo il prezzo per combinare la gara Savona-Teramo del 2 maggio scorso vinta dai biancorossi e con quel successo ottennero la promozione in Serie B con una giornata di anticipo prima di affrontare in casa l'ascoli che inseguiva e quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Catanzaro in collaborazione con lo SCO di Roma che hanno portato a perquisizioni e alla notifica dunque dei cinque nuovi avvisi di garanzia. Secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini, la dirigenza del Teramo avrebbe dato mandato al direttore sportivo dell'Aquila Ercole Di Nicola, ormai ex, già indagato nella stessa inchiesta e ritenuto a capo di una delle due organizzazioni dedite a combinare partite affinché aggiustasse il risultato dell'incontro in favore della squadra abruzzese. Di Nicola, secondo l'accusa, si sarebbe avvalso della collaborazione di altri professionisti del calcio affinché la proposta di Combine giungesse a destinazione Ninni Corda, allenatore del Barletta, anche lui già indagato e Giuliano Pesce, collaboratore appunto del Parma. Il presidente del Teramo Campitelli e il direttore sportivo Di Giuseppe avrebbero poi versato i 30.000 euro per remunerare l'opera prestata dagli indagati per l'alterazione della partita. Sono più che tranquillo, sono sereno La verità dovrà per forza venire a galla Queste le dichiarazioni di Campitelli Le indagini intanto vanno avanti Qualcuno non dormirà più sonni tranquilli in attesa della piena verità All'Aquila è festa patronale San Massimo L'ospedale chiude Polemica su mancati preavvisi per la popolazione Nessun avviso affisso alle porte degli ambulatori Nessun comunicato stampa nei giorni precedenti il 10 giugno Così si presenta all'ospedale San Salvatore dell'Aquila nel giorno in cui si festeggia il patrono della città Ma se gli aquilani si sono ben guardati dal recarsi nel presidio ospedaliero per le visite di routine Così non è stato per chi giungendo nel capoluogo dalle zone limitrofe come Avezzano o Sulmona e ignorando o dimenticando la ricorrenza si è trovato davanti il deserto più totale Porte chiuse Non un medico, non un infermiere solo qualche paziente che in credulo è rimasto a guardare per poi andare via L'unico cartello esposto risulta essere quello affisso sulle porte chiuse del CUP il centro unico di prenotazione il 10 giugno chiuso per festa Santo Patrono Un foglio formato A4 stampato alla svelta e attaccato sul vetro solo dopo le lamentele dei primi anziani Gli ambulatori poi tutti vuoti nessuna comunicazione all'esterno le porte del laboratorio analisi chiuse Nella prima mattinata sono state diverse le segnalazioni giunte in redazione da parte di chi arrabbiato dopo essersi messo in auto e aver affrontato un viaggio è dovuto andare via senza poter effettuare gli esami Ma il servizio sanitario dovrebbe essere sempre garantito e se nel giorno del Santo Patrono come stabilito dalla legge possono essere previste solo le prestazioni essenziali ci dovrebbe essere un'adeguata informazione e comunicazione all'utenza Apre a Chieti il The Hospital di Oncologia Pediatrica è stato realizzato con i fondi raccolti dalla Onlus Morgan di Gianvittorio Si presenta come il primo reparto abruzzese realizzato interamente da una Onlus in un ospedale pubblico il The Hospital di Oncomatologia Pediatrica dell'ospedale di Chieti inaugurato nel policlinico è portato a termine dalla Onlus Morgan di Gianvittorio che ha riconsegnato l'opera alla ASL La struttura è costata 320 mila euro ha comportato sei mesi di lavori su una superficie di 400 metri quadrati che è suddivisa in due sale per le terapie infusionali e oncologiche ambulatori, ludoteca, pareti dai colori pastello e decorate con immagini e disegni adatti ai più piccoli Al taglio del nastro sono intervenuti il direttore generale della ASL Lanciano Bastochieti Francesco Zavattaro il presidente dell'Aonlus Giacinto di Gianvittorio e il tecnico Dino Orgoretti il quale ha eseguito e diretto i lavori Purtroppo l'oncologia pediatrica è in crescita nel senso che la patologia oncologica oggi viene diagnosticata molto precocemente quindi c'è la possibilità di intervenire su questi bambini fin dalla tenera età naturalmente hanno bisogno di un mondo costruito appositamente su di loro e questa struttura ha l'obiettivo di rispondere a queste esigenze Un ambizioso obiettivo raggiunto grazie al prezioso impegno dei volontari e di quanti hanno sostenuto la raccolta fondi ha detto Giacinto di Gianvittorio padre di Morgan stroncato a nove anni da una leucemia Abbiamo iniziato questo rapporto piano piano raccogliendo soldini abbiamo iniziato a inizio gennaio i lavori e adesso siamo riusciti a realizzarlo anche perché tanti ragazzini abruzzesi vanno in giro per l'Italia per curarsi e allora abbiamo fatto questo regalino a questi ragazzini meno fortunati d'Abruzzo La struttura sarà operativa entro fine settembre una volta completata la dotazione di letti e di apparecchiature e quella dell'organico con l'arrivo di un altro medico specializzato in oncologia pediatrica destinato esclusivamente all'attività del day hospital nel frattempo altre offerte di sostegno economico sono pervenute all'ASL di Chieti per l'ampliamento degli ambulatori pediatrici che andranno ubicati nel corridoio attivo ai locali dell'ex direzione generale al settimo livello del Santissima Annunziata appena ristrutturati per accogliere il day hospital oncologico A Lanciano piccoli campioni di matematica crescono 5 alunni della classe seconda H della scuola media Mazzini finalisti ai campionati nazionali di matematica alla Bocconi di Milano e uno di loro si è classificato al primo posto Un caso più unico che raro 5 compagni di scuola finalisti ai campionati nazionali di giochi matematici all'università Bocconi di Milano A Deo, primo classificato, Noah, Nicolò, Stefano e Diego frequentano la seconda H della scuola media Mazzini di Lanciano ed evidentemente la matematica è la loro materia preferita Il sindaco Mario Pupillo li ha ricevuti nella sala consigliare del comune consegnando loro un attestato di congratulazioni Sarà questione di DNA o di clima i genitori dei piccoli geni della matematica si affrettano a dire che loro sono ragazzini normali con una passione comune A Deo si è affermato su 1886 coetanei in un tempo record di 23 minuti ha risolto i 9 quiz proposti il tempo consentito era di 90 minuti Dunque, un tempo record il tuo e con un distacco di 7 minuti sul secondo classificato? Sì, il quarto e il quinto ce ne hanno messi 45 44-43 Che cosa mangi a colazione? Niente, latte, un petto di giambella, niente Cosa farei da grande? Il fisico chimico Risposte pronte, idee chiare per il futuro fatto di fisica, chimica e forse anche architettura il minimo comune denominatore di questo successo è sicuramente la docente di matematica Matilde Di Lorenzo La vostra classe, la seconda H, delle medie Mazzini siete in 5 ad essere tutti bravi particolarmente in matematica come ve lo spiegate? Abbiamo una bravissima professoressa però anche è merito nostro perché ci dedichiamo tutti i giorni a diventare sempre più bravi E fate tanti esercizi? Sì, infatti come ha detto anche Nicolò è molto merito della professoressa perché si è dedicata anche noi il pomeriggio per aiutarci a migliorare in questi giochi matematici infatti noi 5 siamo riusciti a migliorarci ancora di più e a passare a Milano e lui a Parigi Infatti ultimamente tutte le volte che avevamo un'ora della Di Lorenzo la usavamo per andare a fare le prove di matematica degli anni passati per allenarci Possiamo dire che noi ci consideriamo molto bravi in matematica La matematica è un gioco da ragazzi? Eh, sì Sì, sì Continuerai a studiare matematica? Sì Farò lo scientifico e all'università farò fisica Suggestiva celebrazione della Madonna dei Miracoli a Casalbordino tradizione religiosa e popolare tra le più sentite Giorni di fede in un periodo alle porte dell'estate di straordinaria religiosità popolare In Abruzzo i santuari più noti San Gabriele di Isola del Gran Sasso la Madonna della Libera di Prato La Peligna Santa Gemma di Goriano Sicoli Madonna dei Miracoli di Casalbordino sono meta di pellegrinaggi che fino a qualche tempo fa si facevano addirittura a piedi mossi dalla fede e dal bisogno della rassicurazione e della protezione Ieri è stato l'intenso momento della processione in onore della Madonna dei Miracoli L'apparizione della Vergine Maria ad un anziano di Pollutri Alessandro Muzio avvenne nel lontano 11 giugno 1576 L'apparizione è enunciata in un documento scritto da Don Giuseppe Muzio figlio di Alessandro Muzio Il documento è conservato nell'archivio parrocchiale di Pollutri Dopo una tempesta di pioggia e grandine Alessandro si recò in località Pian del Lago dove sorge l'attuale basilica per constatare le condizioni del suo campo di grano In quel momento gli apparve la Madonna La Vergine parlò all'uomo rimasto in ginocchio ai suoi piedi sollecitandolo affinché predicasse il rispetto del terzo comandamento ricordati di santificare la festa Al termine del messaggio la Madonna scomparve lasciando asciutto il terreno su cui aveva posato i piedi Costruita una cappella visibile ancora all'interno dell'attuale santuario che poi si è sviluppato ben presto la devozione si allargò con migliaia di fedeli che il 10 e l'11 giugno di ogni anno raggiungono il paese del Chietino Compagnie da tutto Abruzzo e anche dal vicino Molise si stringono attorno alla Madonna La Vergine viene trasportata dalla Chiesa di San Salvatore nel centro del paese fino alla Basilica della Madonna dei Miracoli tra fiori, preghiere, lumini molti fedeli chiedono protezione la buona salute per se stessi e i propri cari tanti gli ex voto presenti nel cuore del santuario in un culto mariano popolare tra i più sentiti e suggestivi dell'intero centro Italia La Giunta regionale ha declassato sul Mona da polo di attrazione ad area intermedia e ha cancellato dalla programmazione i territori di Lanciano e Vasto La denuncia è del Presidente di Commissione e Vigilanza in Consiglio regionale Mauro Febbo La Giunta regionale ha declassato sul Mona da polo di attrazione ad area intermedia e ha cancellato dalla programmazione i territori di Lanciano e Vasto Per quanto riguarda la strategia delle aree interne ha escluso senza logica molti piccoli comuni della provincia di Chieti e soprattutto della Valle Peligna e della Valle del Sagittario dal progetto per le macro aree interne Questo l'allarme è lanciato dal gruppo regionale di Forza Italia nel corso di una conferenza stampa Nello specifico ha commentato Mauro Febbo, Presidente della Commissione di Vigilanza La Giunta regionale con una delibera raffazzonata del 14 aprile scorso di concerto con il Dipartimento per lo Sviluppo Economico sancisce il declassamento di Sul Mona ed elimina Lanciano e Vasto Una delibera raffazzonata che vedeva individuare solamente alcune aree interne andandola a leggere bene invece da disegno a una nuova strategia perché toglie e declassa tre centri nevralgici di questo territorio da una strategia che è quella dei poli da attrazione togliere Sul Mona, Lanciano e Vasto credo che sia un atto che grida vendetta perché si va a accumulare ad una serie di azioni che sono state portate avanti in questo anno e che dimostrano come ci sia un cumulo di atti che vogliono penalizzare questi territori parlo per esempio dei punti nascita sul Mona penso all'edilizia sanitaria che non decolla perché non si va a Roma a firmare l'ultimo atto che assegna i fondi ai cinque nosocobi che devono essere realizzati poi però a Sul Mona si fa la sceneggiata della posa della prima pietra penso al declassamento ferroviario che c'è su questi tre punti che quindi disegnano un interesse industriale diverso da quel che in effetti oggi c'è In sostanza sostiene Forza Italia questo governo regionale tenta di ridisegnare la geografia politica e economica dell'Abruzzo spostando l'asse esclusivamente sull'Aquila e Pescara per motivi politici una decisione che secondo il professor Aldo Ronci porterà ad un progressivo depauperamento dei servizi essenziali nelle aree tagliate fuori Questa esclusione vogliono dire un impoverimento dei servizi essenziali a disposizione delle comunità locali perché i poli di attrazione sono sede dei cosiddetti servizi essenziali istruzione, sanità e trasporti e venendo a mancare l'individuazione dei poli in queste aree chiaramente l'adeguamento e il potenziamento non verrà fatto in queste aree ma verranno fatti nei sette poli individuati dalla regione con delibera di giunta regionale La Polizia di Pescara ha acquisito venerdì scorso al Comune la documentazione riguardante la realizzazione della City il megacomplesso immobiliare sulla Tiburtina il procedimento nasce da un esposto del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che torna all'attacco sull'operazione la City per la nuova sede della regione Abruzzo La Polizia di Pescara ha acquisito al Comune la documentazione riguardante la realizzazione della City il megacomplesso immobiliare sulla Tiburtina il titolare del fascicolo e il pubblico ministero del Tribunale di Pescara Anna Rita Mantini non ci sono indagati l'obiettivo almeno al momento è solo un esame preliminare per valutare le carte il procedimento nasce da un esposto del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che torna all'attacco sull'operazione la City per la nuova sede della regione Abruzzo e svela i contenuti del piano di rischio aeroportuale promosso da Aena che è approvato dal Comune di Pescara nel 2012 secondo il documento occorre prevedere la realizzazione della nuova sede della regione in un ambito esterno a quello di tutela il complesso la City infatti come è stato spiegato in conferenza stampa dal consigliere Pettinari dai consiglieri comunali Enrica Sabatini ed Erika Alessandrini e dal deputato Gianluca Vacca ricade nella zona C del piano di rischio il Comune con delle delibere di giunta hanno detto i grillini nel 2013 ha consentito la realizzazione della nuova sede in quella zona ma il piano non è derogabile ed è sufficiente per bloccare la procedura la regione fermi l'operazione prima della firma del contratto ho invitato la regione Abruzzo i vertici politici e tecnico-amministrativi della regione Abruzzo con tre lettere a bloccare questa procedura non solo vi è di più abbiamo scoperto che qualche anno prima per un insediamento che doveva anche allocare la regione Abruzzo nello stesso ambito di tutela nella zona di tutela lo stesso Comune di Pescara nega l'autorizzazione perché dice lì c'è il piano di rischio aeroportuale non si può realizzare la regione Abruzzo e perché alcuni anni dopo nella stessa fascia di tutela si autorizza l'insediamento di uffici pubblici e quindi della regione Abruzzo? Lunedì il deputato Vacca presenterà un'interrogazione parlamentare per chiedere un parere al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture su ciò che sta accadendo in Abruzzo è bene che il ministro sappia se già non sa vogliamo, ha detto Vacca delle risposte ufficiali Parco della Costa Tiatina la perimetrazione rischia di diventare un pasticciaccio con la cartografia in scala 1 a 25.000 datata a 1958 è tornato a parlare l'onorevole Fabrizio Di Stefano che ha presentato un'altra interrogazione in Parlamento intanto gli ambientalisti continuano a sostenere l'operato di De Dominicis Le associazioni WWF, Legambiente, Anci, Fai, Italia Nostra, Pronatura e Mare Vivo a proposito della perimetrazione del Parco della Costa Tiatina ritengono sconcertante l'atteggiamento di quei sindaci che stanno ritardando il decreto con motivazioni inesistenti e parlano di miopia politica i sindaci hanno infatti contestato la perimetrazione per l'uso di carte topografiche datate e non abbastanza dettagliate secondo le associazioni è vero che l'architetto Pino De Dominicis ha disegnato un'area protetta ridotta al minimo indispensabile ma l'errore sarà corretto nel tempo quando i vantaggi connessi alla presenza all'interno del parco soprattutto dei territori agricoli saranno resi evidenti dai fatti il presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco è un grande risultato perché finalmente dopo 15 anni possiamo parlare del Parco della Costa Tiatina ci sembra sbalorditivo e ridicolo l'atteggiamento di alcuni sindaci che non hanno partecipato attivamente a questo percorso nonostante siano stati coinvolti in un arco di tempo così lungo e la richiesta nostra è comunque quella di chiudere rapidamente il percorso in essere affinché si giunga alla decretazione da parte del presidente della Repubblica anche perché sul nostro territorio incombe la deriva petrolifera ci troviamo di fronte a dei permessi di petrolizzazione che potrebbero arrivare a stretto giro quantomeno vogliamo mettere in campo un atto di credibilità politica e quindi sollecitiamo i sindaci ad assumere un atteggiamento serio e rispettoso della volontà popolare che è già stata manifestata l'appello ai comuni che continuano a guardare al passato invece che al futuro fate almeno in modo sforzatevi di non nuocere ulteriormente agli interessi dei cittadini che vi hanno eletti e al benessere di questo territorio che meriterebbe una governance di più alto profilo la perimetrazione del parco della costa teatina è un pasticciaccio l'onorevole Fabrizio Di Stefano non ha dubbi soprattutto dopo la risposta ad una nuova interrogazione presentata al ministero dell'ambiente il lavoro del commissario ad acta Pino De Dominicis non è completo perché non ha ascoltato i sindaci nella conferenza unificata della regione con i portatori di interesse l'onorevole Di Stefano entra anche nel merito dei requisiti tecnici con cui è stata elaborata la perimetrazione del parco istituito con un emendamento alla finanziaria del 2001 dall'allora senatore Angelo Staniscia manca uno studio propedeutico all'istituzione del parco ancora più grave è che la cartografia utilizzata in scala 1 a 25.000 è datata a 1958 a firma del genio militare in 50 anni la costa si è notevolmente antropizzata fa notare ancora il parlamentare di Forza Italia tant'è che nella zona da tutelare secondo la perimetrazione del commissario insistono anche aree del porto di Vasto e l'ospedale di Ortona costruito negli anni 70 Il commissario prima di rimettere le carte al Ministero e al Presidente della Repubblica deve necessariamente fare questo passaggio e io lo diffiderò nei prossimi giorni ufficialmente fornendogli la risposta del Ministero ad impiere a questi passaggi perché è impossibile pensare a un parco fatto con una cartografia del 58 a cui il Ministero non mi ha smettito e che evidentemente riporta una realtà che oggi è totalmente diversa visto che sono passati quasi 60 anni non è un caso che anche il comune di Ortona oggi lamentava che perfino l'ospedale che è evidentemente successivo al 58 e che non presenta nessun particolare pregio paesaggistico rientra nelle zone vincolate dal parco allora qui dobbiamo capire che cosa c'è davvero dietro questo parco prima si diceva che sarebbe stato lo strumento atto a bloccare Ombrina lo dicevano anche i lustri parlamentari che oggi non sono più parlamentari ma siedono ai vertici del CSM alla precedente interrogazione mi hanno risposto che purtroppo l'iter di Ombrina è svincolato da un eventuale parco della costa di Tiatina e quindi non serve a bloccare Ombrina il parco oggi vediamo che questa eventuale perimetrazione passa sulla testa dei sindaci sulla testa degli amministratori sulla testa dei cittadini abruzzesi noi non ci stiamo io non ci sto credo che sia meglio bloccarlo questo parco così è così deve essere e ci si sieda veramente con serietà a tavolino e non si acceleri solo per creare un nuovo consiglio di amministrazione delle nuove poltrone e una nuova presidenza dei domenici se facesse altro visto che non è riuscito a salvaguardare neanche la sua cittadina almeno mi pare che sia di Bussi ed era presidente proprio quando si compriva con il disastro ambientale che tutti purtroppo abbiamo ben conosciuto ed è tutto per questa edizione delle OTG7 grazie per essere rimasti con noi a tutti voi ancora una buona domenica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti